Un vero e proprio dramma, quello che ha colpito il quartiere del Queens a New York negli scorsi giorni. Un bimbo di 4 anni è morto investito da un'automobile mentre stava tornando dal funerale di suo fratello. Il bimbo è morto a causa di un grave trauma che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La famiglia, secondo quanto raccontano i media, locali è sotto sciocche secondo le parole del padre. Sembra che il piccolo, dopo l'incidente, abbia provato a rialzarsi e a chiamare la madre, ma purtroppo per lui i traumi subiti erano troppo gravi.